Che succede a Stefano Minelli? Anche con il Frosinone la sua prestazione è finita nel mirino. Due gol subiti e in entrambi la sensazione è che potesse fare di più. Il primo è stato un tiro da fuori area di Gori nel quale l'alibi dell'era coperto regge fino a pagina 2. Nel secondo, quello di Ciano che ha dato la vittoria ai Ciociari a pochi secondi dalla fine di un recupera extra large, al netto dall'errore di Curcio, prestano forti dubbi sull'uscita alla langa del portiere delle rondinelle che si è anche fatto passare la palla sotto le gambe. Torno di riposo? La riflessione in casa Brescia a questo punto è una vale la pena insistere su un giocatore che sta attraversando un momento difficile o non è il caso di puntare su uno degli altri due portieri in rosa? Tutta l'analisi nell'edizione del giornale di Brescia in edicola oggi è scaricabile anche in formato digitale. Riproduzione riservata copyright www.giornaledibrescia.it